La gestione della chiusura e della riapertura delle scuole sta ormai diventando un sottile gioco di equilibrio politico fra governo, regioni, ministero, comitato tecnico scientifico. Il governo fissa le regole ma dice anche che le regioni possono derogare se le condizioni epidemiologiche lo rendono necessario, ma in realtà poi accade che non sempre le misure decise a livello locale siano coerenti con la situazione oggettiva. Per esempio in provincia di Bolzano, che è zona rossa, si continua a fare lezione in presenza. In Sicilia, zona rossa, la scuola primaria fa lezione a distanza, mentre in Lombardia, con lo stesso colore, gli alunni frequentano tranquillamente in presenza. In Campania è stata trovata un'altra soluzione ancora, scuola in presenza solo fino al terzo anno della primaria, lezione a distanza per tutti gli altri. Per evitare di prendere decisioni divisive il presidente della regione Puglia ha fatto una scelta quasi salomonica. I genitori possono mandare i figli a scuola oppure tenerli a casa. Nel secondo caso però la scuola deve garantire la didattica a distanza, tanto che i sindacati parlano di scuola alla carta, come fosse il menù di un ristorante. Nelle ultime ore anche il responsabile del CTS, Miozzo, ci ha messo del suo e ha detto chiaramente che le regioni che decideranno di derogare alle regole nazionali se ne dovranno assumere la piena responsabilità, fino in fondo. E che dire poi della confusione legata anche alle ordinanze dei Tar che, su situazioni analoghe, prevedono soluzioni diverse? Tar Lombardia e Tar Emilia, per esempio, hanno annullato le ordinanze di sospensione delle attività didattiche adottate dalle rispettive regioni. Tar Sicilia e Tar Puglia, al contrario, hanno respinto i ricorsi con analoghi provvedimenti delle regioni. Il principio della leale collaborazione fra Stato e regioni sembra ormai saltato. Si tratta di un tema molto serio sul quale, quando sarà finita la pandemia e saremo tornati alla normalità, bisognerà aprire un dibattito molto franco. In ballo ci sono non soltanto il funzionamento del sistema scolastico nazionale, ma anche la credibilità delle istituzioni dello Stato. Sul tema ovviamente continueremo a tenervi aggiornati, quindi continuate a seguirci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, ne daremo conto come al solito. Grazie a tutti.